Dottor Gianzante, facciamo il punto sulle vaccinazioni e sui nuovi positivi. Allora, l'andamento delle vaccinazioni è molto positivo. Alla data del 26 luglio del 2021 sono state effettuate 318.312 somministrazioni di vaccino. 186.518 persone hanno ricevuto almeno una dose e 131.794 hanno ricevuto tutte e due le dosi. Quindi hanno completato il ciclo vaccinale oppure con la monosomministrazione hanno ugualmente completato. Cosa significa questo? Che rapportata alla popolazione target, che significa quella popolazione che può essere vaccinata, quindi escludendo tutti quelli che sono i 0-12 anni, tutte le persone 0-12 anni, più quelli che non possono ricevere per immunodepressione oppure per malattie concomitanti il vaccino che hanno avuto recentemente il Covid, significa che circa l'80% della popolazione target ha ricevuto almeno una dose e circa il 57% della popolazione target ha avuto la vaccinazione completa. Il che ci fa sperare che per settembre, fine settembre, avremo raggiunto quell'80% di popolazione vaccinata tanto agognato. Nel momento in cui c'è stato il disco verde al Green Pass, avete notato un aumento, un interesse, le telefonate per capire come fare? C'è stato un deciso aumento. Prima non riuscivamo a riempire gli slot, adesso abbiamo avuto una corsa alla vaccinazione, il che ci fa molto piacere, vuol dire quindi che si trattava di persone indecise e quindi il meccanismo del Green Pass è stato utile per invogliarle a vaccinarsi. Corsa alla vaccinazione, cosa vuol dire? Cioè che età possiamo... Allora, sono soprattutto giovani che adesso si stanno vaccinando, per giovani intendiamo soprattutto dai 12 ai 40 anni, i quarantenni ormai sono giovani, persone che magari pensavano di poter trascorrere un'estate tranquilla senza vaccinazione e poi pensarci. Invece hanno capito che effettivamente è utile vaccinarsi ora per poter poi passare uno con uno tranquillo. Vaccinazione che continua e prosegue tutta l'estate, le defezioni ci sono sempre però, anche chi non va a farsi la seconda dose perché è in Spagna... Una quota di persone, diciamo, che non rispetta quelli che sono gli appuntamenti, la dobbiamo sempre mettere in conto e per questo noi comunque pensiamo di recuperarli anche per un brevissimo periodo. Ma come sono i numeri delle vaccinazioni, quindi della dose doppia, per fare la somma, rispetto alle altre province? Sono numeri decisamente in linea se non superiori a quello che è l'andamento nazionale. Perché? Perché ripeto che gli italiani e ripeto gli abruzzesi e gli italiani tutti hanno capito l'utilità della vaccinazione. Adesso i vaccini ci sono, qualche volta andiamo in carenza proprio perché c'è una grande richiesta, ma con il mutuo soccorso tra Alza oppure le richieste che noi facciamo a Roma fanno sì che non dobbiamo interrompere. Si può verificare un rallentamento ma mai un'interruzione. Ecco, vaccini che vanno avanti, ma vanno avanti anche la variante, quindi con le nuove positività, tra i giovani e soprattutto tra i non vaccinati. Mi conferma dottore? Confermo pienamente. Devo dire che l'andamento nella nostra provincia è un andamento buono, abbiamo pochi casi, però purtroppo dobbiamo mettere in conto che la variante Delta diventerà breve la variante predominante, come è venuto per l'inglese e successivamente per l'indiana. È comunque una variante che non sta dando grossi problemi a livello di malattia. Possiamo dire a livello di contagiosità sì, ma non di malattia, in quanto abbiamo, come voi ben sapete, le rianimazioni vuote, le parti Covid vuoti, pochi casi ricoverati nelle malattie infettive. È però una variante che dà una grossa diffusività e quindi dobbiamo invitare tutti a vaccinarci. Vaccinarci perché così arriveremo ad ottobre e avremo messo al sicuro tutta la popolazione o la maggior parte della popolazione. Ecco, le ho chiesto anche prima, le USCA non stanno lavorando come facevano l'autunno scorso, sono impiegate nella somministrazione dei tamponi, si tratta di persone quasi tutte asintomatiche o pauci sintomatiche? Le USCA continuano il loro prezioso lavoro e sono sicuramente utilissime. Oltre ad andare presso le abitazioni ci aiutano chiaramente in quasi tutte le attività collaterali e quindi nell'organizzazione praticamente anche delle vaccinazioni, oppure vengono aiutati per le cure primarie, fanno alle visite domiciliari. Quindi sono un elemento, sono un reparto per noi prezioso per portare avanti quella che è la campagna vaccinale. Ecco, da ultimo i punti di somministrazione vaccinale rimangono San Vittorino come il top, poi c'è Bazzano, le farmacie dottore? Allora, chiaramente i due abba vaccinali, quello di Bazzano e quello più grande di San Vittorino, rimarranno sicuramente per tutta la stagione, poi attenderemo quelle che sono le disposizioni del commissario per l'emergenza. Le farmacie ci stanno aiutando, per ora sono un certo numero, sono un numero limitato, ma aumenteranno sempre di più e io penso che per il futuro, insieme a quelli che sono i medici di base, le farmacie saranno fondamentali per il cambiamento di quello che è la vaccinazione, dal lab vaccinale a quello che è la vaccinazione ordinaria.